Lunedì, come è triste il lunedì senza te, martedì, come è vuoti il martedì senza te. Mercoledì ci potremo salutare solamente per telefono, come pure il giovedì e il venerdì. Ma sabato sera ti porto a ballare, ti potrò baciare, ti potrò baciare, ma sabato sera ti porto a ballare e potrò restare con te. Ma sabato sera ti porto a ballare, ti potrò baciare, ti potrò baciare, ma sabato sera ti porto a ballare e potrò restare con te. Lunedì, si comincia a lavorare, lunedì, martedì, si comincia ad aspettare, martedì, mercoledì. Un magento ti darò solamente per telefono, come pure il giovedì e il venerdì. Ma sabato sera ti porto a ballare, ti potrò baciare, ti potrò baciare, ma sabato sera ti porto a ballare e potrò restare con te. Ma sabato sera ti porto a ballare, ti potrò baciare, ma sabato sera ti porto a ballare e potrò restare con te.